Buone sensazioni insomma in generale. Davide com'è la tua giornata? Questa mattina sono partiti con l'Opening Bell, abbiamo seguito anche noi, è una giornata ricca perché ricordiamolo a livello di cronaca ci sono sette sale tematiche quindi ci saranno naturalmente dibattiti e conferenze con il pubblico e naturalmente l'interazione tra il pubblico e tutti voi. La tua giornata come sarà? Intanto diciamo che passando per tornare qui alla vostra postazione ho visto che anche le altre sale erano piene, il che depone a favore di chi ha organizzato la manifestazione a cui faccio i complimenti. La mia giornata adesso attende mezzogiorno dove terrò una conferenza, mi attendo simpatica o nel senso di gradevole sulle criptomonete perché voglio andare a interagire con l'idea di come funziona la blockchain insomma che mi ha molto attratto e quindi si svolgerà così e poi il pomeriggio un po' di presenza qui allo stand di Crypto360 che mi ha ospitato e un po' di colloquialità con le persone che vogliono venire. C'è molta interazione, vedo che tutti chiacchierano tra di loro. Assolutamente sì, ma nelle conferenze svelo una tua piccola peculiarità anche se chi ti conosce sicuramente lo saprà, girerai tra il pubblico, andrai a disturbare tra virgolette i partecipanti. Sì, andrò a solleticare un po' l'interesse perché in fondo io mi sono posto forse un po' prima domande che comunque si pone il comune investitore, quindi semplicemente cercherò di porre domande e avere risposte. L'ultima cosa, in queste giornate comunque particolari Davide, qual è la domanda che ti pongono più spesso sui mercati? È un po' cambiata nel corso del tempo perché ovviamente tanti anni fa l'approccio era un po' del tipo se sei un top trader forse puoi insegnarmi un metodo ed evidentemente questo è stato un contesto che è andato avanti per un tempo lungo. Ultimamente invece, negli ultimi anni invece ho percepito una voglia molto più crescente di imparare. Imparare non tanto un metodo ma la conoscenza. Il mio metodo in fondo è basato sull'intuitività che deriva dall'esperienza, quindi se io non avessi sempre avuto voglia di sapere qualcosa in più, imparare qualcosa in più, non avrei potuto arrivare dove sono. Le borse sono tanto cambiate, il tipo di trading che si faceva una volta non è più quello che si può fare oggi perché la presenza delle macchinette che nel gergo dei trader sono i software, gli algoritmi che fanno trading ha proprio modificato strutturalmente i mercati. Oggi si fa un trading tipo diverso dove serve molto l'intuizione ed è l'attività prevalente. Benissimo, e qui di intuizione se ne sente tanta, se ne respira tanta. Allora Davide Biocchi ti lascio andare alla tua prima conferenza, quindi cripto al centro dell'attenzione e buona giornata qui a Investing Roma. Grazie, un saluto a tutti quelli che ci seguono da casa. Noi ci sentiamo tra pochissimo perché la scaletta è veramente fitta, avremo tanti ospiti da ascoltare e quindi ci sentiamo dopo. a te Annabella.